Bella raga, ho il 26 gameplay che faccio, non riesco a mettermi di registrare la partita, un dominio col cortello, ho fatto pure delle buone partite ma non sono riuscito a registrarne nemmeno una recentemente. Speriamo che questa è l'ultima che faccio quindi speriamo che viene bene perché come viene viene la carico, pure se sto a fare due minuti. Quindi andiamo. Ok. Oh oh, è un camper, eccolo. Un camper con laser. Allora che cazzo dai 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 dai. Adesso cerchiamo che prenda A. Diciamo che viene bene questa partita raga perché non è veramente scassa del cazzo. Ok. Ok. C'è uno con laser là, questo può essere un po' breve. Come faccio? Come faccio? Come faccio? Anzi scatta dentro. Allora raga, ho paura. Che culo. No 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 uccidetelo. Grande. Ho fatto il nabbaccio ma ne vale la pena. Eccola. Eccola. War, 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 war birds. Ma è il minuto per il dici. Oddio. Guarda sto stronzo. No no no. Vabbè ha ristoppato il video ma stavolta non mi sono accorto. L'ho fatto ripartir su B. Ok. Dai dai. Io sapevo che era infimo sto coso. Mi piaceva bloccare il video. Che culo ho preso il walker. Che culo che grande. Oh oh e questo? Che fai qua? No. No vabbè raga. Voi l'avete visto che l'avevo accortellato? Per favore dite. Lasciate un commento. Avete visto che io l'avevo accortellato? I miei walker che non uscitano nessuno. L'unico nella storia dei walker. Che non fa nemmeno la kill. Wow. E però non muori eh. Mi dispiace mi fai sempre domenica. I miei walker non hanno fatto un uccisore. E tu muori. E il cortace dell'amico tuo che non si è riuscita a uccidere. Ok raga sto a 8-4. Lo so che è un risultato un po' bruttissimo però. Ok. Ho schiacciato la testa. Ok. Un guardamento alleato. Io lo adoro sta cosa. Ma io credo in me. Il cuore mio Naruto Naruto. Allora raga. C'ho paura. Eccoli. Grandi stupidini. E li uccide tutti e due. Andiamo al drone. Raga. Non voglio camperare però. Tocca sta a court. Perché io tra poco mi rinizio il round. E non voglio perdere se approvvigionamente. Bella raga. C'ho Warbird per il prossimo round. Raga. Poi io prendo il paladin per il prossimo round. Non devo morire. Devo resistere i 26 anni senza morire. Oddio. Pazzo. Oddio. Oddio. C'è un nemico qua. Oddio. E c'ha il paladin. E nemmeno muoio. Nemmeno muoio. Oddio li sfido. Li sfido a duello. E non sono morto. Oddio. Eccoci qua per il secondo round. Speriamo di riuscire a finire questa partita in bellezza. Ok. Andiamo. Oddio. Lanciamo Warbird. Lanciamo lineeri con sto paladin raga. Si era ribloccato raga. Un'altra volta si era bloccato sto. Valordo di gioco. Non capisco perché non c'è mai nessuno quando dice il paladin. Eccolo eccolo. Provato. 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 Allora. I walkers sono. Non riuscivo a conchera che sparava sti cosi. Erano i walkers. L'abbiamo appurato. Quello è un nemichetto. Ho messo una torretta. Spacchiamogli. Ok. Ho sbloccato l'UAB per appena torno. Raga ma nessuno si uccide di fare il culo. Come walkers nemici. Non ci piace sta cosa. Bella bella raga serie di 10. Ok. Ci stanno i walkers. Io penso che non mi muoverò. Aspettiamo che finiscono i walkers perché sto in serie. Sto a fare 18-4 raga. Sto a fare una partita almeno decente. Lo giuro non sto a fare il camperone ma i walkers mi fanno proprio paura. Oh oh oh. Ma qua c'è uno. Qui sta. Ok i walkers sono finiti possiamo uscire. Speriamo. Mamma mia la mamma mia sei proprio un laser di merda. Ok andiamo a prenderci raga. Aspetta. Ci abbiamo un bombardamento alleato. Sperando che ci salva il culo. Vabbè prendi 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 C. Vai col drone. Ok scappiamo di nuovo a me. Vai grande drone. Bella un altro warbird. Dai dai raga mi sta a piacere sta partita. Finalmente ci sono una partita decente da carica sul canale raga. Una partita decente. Oh oh no no no. Non ti incastare pezzo di merda. Bella raga senza anima. Senza anima del mortage. Strach. Ma raga secondo me ce la va. Raga posso spettare te. Oh no no no. Nooo. Sta a prendere un altro warbird raga. Cacchio. Sono una serie dei 15. È finita un po' così sta partita. Pensavo che devo fare almeno 25. Eh mo. Ugualmente ci sta il dispiacere che non ci sia riuscito a fare sopra il 15. E non riesco neanche più a cortella questo deficiente. Oh raga. Sta a fare come gli pare. I tasti non li premo più io. Li preme già solo. Ok. Vabbè. Sta a succedere il disastro. Sta a fare 25.6. Dai. Ma tu dovresti. Che vorresti fare. Che vorresti fare. Allora. Ottio. Ottio. Un amico. Morto. Un amico. Oh. Oddio. E tu. Perché non mori? Oddio sei morto. Vai. Vai. Vai vai vai. Tu dove vai? Tu vai? Uomo trasparente. Rispondo la torretta. Porco giuda. Ti do fuoco a casa. No amortaggi. Strasci. Un altro trasparente. Oddio sono in tre, sono in tre, oddio faccio la strage, oddio faccio la strage, oddio, ho fatto la strage degli assist, oddio questo l'ho ucciso, oddio, mamma mia, mamma mia, chi sono, no, mi hanno ammazzato, vai fammo l'ultimo, fammo l'ultimo, per la gloria, Sì, l'ultima, è l'ultima, no, mi sono suicidato come ultima, ah no, ok, mancano 20 secondi, 20 secondi, ce la faccio qua, fa l'ultima, Ok, il lastro camper, oddio, ho fatto una doppia assurda, ragazzi è l'ultima, mi sento male, non è l'ultima, però mi sento male lo stesso, ho fatto una doppia col piede, è assurda, No, stavo per fare l'ultima, c'erano due davanti, tre, quanti sono, comunque, ragà, spero che questo gameplay vi sia piaciuto, lasciate un mi piace, commentate, Lasciate un mi piace, questo correva così, ragà, sono arrivato nel primo, con 32 di 10, spero che questo gameplay vi sia piaciuto, lasciate un mi piace, condividete e iscrivetevi al canale, non vi costa niente, un bacione per il vostro Janga, E ora vi do un bacio, alla prossima, ragazzi.